Uno solo tra Ramu e Sibilli sulla tre quarti o avanti con entrambi dal primo minuto? E' il dubbio di Michele Mignani in vista della trasferta del Bari sabato pomeriggio sul campo della Reggiana. La settimana di lavoro successiva al pareggio contro il Como ha visto l'allenatore meditare la possibilità di tornare alla coppia d'attacco Nasti Diò, opzione testata dal primo minuto, sin qui solo nella partita inaugurale del campionato contro il Palermo lo scorso 18 agosto. Diò ha spiegato in conferenza di non essere ancora al 100%, ma la possibilità di vederla all'opera dal primo minuto è tutt'altro che da scartare. A gara in corso l'allenatore avrebbe poi a disposizione un paio di frecce per allargare le maglie della difesa di casa, vedi alle voci a Scicche e Moracchioli. A centrocampo dovrebbe invece prevalere la linea della continuità con il trio Cuzzupias-Maiello a Campora. Bellomo e Benali, in assenza dell'infortunato Maita, sarebbero le prime opzioni dalla panchina. In difesa Ricci potrebbe scavalcare fra botta a sinistra accanto a Vicari, di Cesare e Dorvalle davanti a Brenno. Buone notizie intanto da Jeremy Menez, giovedì il 36enne francese. K.O. al crociato nella gara d'esordio contro il Palermo ha cominciato a riprendere confidenza con il pallone sul prato dell'antistadio. L'obiettivo è rivederlo in campo a inizio 2024. Intanto il Bari ha urgenza di punti a partire dalla trasferta di Reggio Emilia. Start alle 14, arbitra Antonio Giuha della sezione di Calangianus. Oltre 1.500 i tifosi bianco-rossi attesi nel settore ospiti.